i colori di fine estate sono quelli più belli l'aria è fresca questo canale si chiama frammenti di vita ho cambiato un po il nome perché in effetti sono dei frammenti della vita che un giorno uno se li rivede sono piccoli momenti non di più un minuto cose così piccoli ricordi come sempre non sono editati non sono vengono i video non vengono tagliati sono solamente messi così così come sono